Grazie da Violante e papà. Oggi facciamo un video e andiamo a cercare qualcosa da scartare, un giochino. Stiamo nel negozio e poi ci stanno i pezzi e le pop, però dentro ci stanno anche le pezzi. Facciamole vedere, facciamole vedere. Eccole, queste costano tanto e non abbiamo i soldi, allora dobbiamo inventarci qualcosa. Ci stanno le pezzi, le pop, queste sono le pezzi, queste le pop e dentro ci stanno le linie. No, no, dentro non possiamo portare il video, se no pensano che li stiamo rubando. Ok, ok. Andiamo a cercare. Mano con papà. Dove andiamo papà? In questo posto? No. Dove vai? Dove anche lavorare, vai? Perchè, non mi piace, non mi piace. Non ci sono le pezzi. Non mi piace, non mi piace. Cosa bene, qua ha il vino con la niente. Tu non mi piace, non mi piace, non mi piace. Mi piace, non mi piace, non mi piace. È rilassata, non mi piace. un'aranciata? un frappè? un frappè? un mini unicorno! un mini unicorno? no ma secondo me bisogna andare dal cino se vogliamo fare uno slime andiamo a andare dal cino? facciamo il slime a punta mmm prendiamo lo slime ma certo lo facciamo prima no? eh? non ho capito papà quanto fa 3 euro e 50 più 3 euro e 50? fa 7 euro papà ce l'hai 7 euro? no di sì che ce l'hai sì ce l'ho ma che ci dobbiamo fare scusa perché? se prendiamo papà se prendiamo un slime da 3 euro e 50 vabbè ma dopo che gioco è scusa lo dobbiamo fare noi lo slime? dovremmo fare noi perché è più bello no? vabbè allora ne facciamo due chi fa il più bello vince papà però dobbiamo prendere i coloranti alimentari no i coloranti vanno più bello poi prendiamo l'inferlentine con l'acido borico prendiamo il il abbonato di sodio e la colla transparente se prendiamo la colla transparente niente acqua semplice prendiamo quella normale sì l'acqua e grittere tutte le mie vero papà? va bene e sceglierò i colori miei faremo due colori per me e due colori per me va bene? ok sì sì allora ma ma non capisco perché a mandare a fare shopping come aveva anche che ha fatto? forse non ha abituato i nostri barbi come faccio stiamo registrando a mani a fare a mani a fare e quindi se lo vedete è una manca guardate quello guardate guardate gotta go è una manca questa rossa mi sono ho e vedevi che andrà ogni giorno ogni giorno alla manca Piedini puzzolenti, piedini puzzolenti, piedini puzzolenti, oggi come vedete adesso prima, come avete visto prima, ecco voi, qui potremmo vedere qualcosa, c'è qui? Sì, abbiamo preso i colori che sono il verde, il giallo, il rosso, il blu e il mio amore ha preso queste qui, queste sono le mie costruite di papà, la colla e queste per il negozio e ci manca solo l'acido borico e... Cioè sarebbe il liquido per lentine? No. Non ho capito, l'acido borico che cos'è? È l'acido borico, l'acido borico è l'acido borico, il liquido per lentine è il liquido per lentine. E ci manca l'acido borico. E dove si compra l'acido borico? Forse in cattuo, forse dove vengono cose per i dolci. E ci serve anche il bicarbonato di sodio. E quello lo andiamo a comprare? Andiamo. Perché dobbiamo fare questa cosa su YouTube? E lo slime! Perché voglio farlo. Perché? Perché voglio farlo. E perché non lo fai insieme a tuo fratello? Perché Dan è timido e io sono più grande qui, e io sono più piccolo, scusate. E lui è più grande, quindi non dovrebbe essere timido. Ma no. Ma no. Ma no. Quindi fa finito, fa sul suo tablo e per il mio. Ragazzi sto in questo parco, dargli un po' di dolore perché non sapevo come. Perché c'è un momento di pausa, dovevi andare con le farmaciche a comprare l'acido borico. qui, dovevi andare con le farmaciche a comprare l'acido borico. Alejandro, vieni a comprare l'acido borico. Vieni a comprare l'acido borico. Vai. Tre, due, uno. E' il primo acquisto. Due mosche fidanzali. Che ti bacavano. Poi si sono rilasciati perché non avevano saluto. Veramente? Non avevano saluto. Amici, l'ultimo acquisto. Ragazzi, abbiamo preso l'acido borico e il borico. Ma che c'è sulla bocca? Fa vedere. Ma c'ha i baffi. Il gelato perché ho montato appena il gelato. Ragazzi, diciamo gli ingredienti. Allora, i coloranti vanno bene in tutti i colori. Io ho preso il giallo per me. Il giallo e il rosso per me. Poi questo è il decorativo. Ma io voglio io il rosso, scusa. Ma perché il blu e il verde? Io voglio il rosso. Vabbè. E queste decorazioni. I glitter, i glitter. Poi due ciotterine. Il papà ha preso i glitter d'oro. Poi, il papà ha preso il verde e il blu. Poi ci serve l'acido borico e il liquido per le lentine o la soluzione salmina. E la colla bianca e la colla bianca. Quindi se non avete quella trasparente dovete mettere l'acqua e il bicarbonato di bianca. Perché questa è colla bianca. Quindi acqua? Sì. Andiamo, allora faremo una a uno. Se papà mi fa spazio. E te sto a fare spazio, c'è il culone. Altiamo le maniche. Ok. Allora, metto dentro? Metto dentro? Io. Questa è la mia. Vabbè, ti aiuto no? Fermi, fermi, fermi. Ti aiuto. Un po' a te. Fermi. E un po' a me? Sì. Ora prendiamola. Basta questa colla? Basta? Sì. O di più? Di più per me e di più per te. Dove finisce? Papà me lo apri? Cioè, dobbiamo mettere papà un pizzico pizzino. Un pizzico minuscolo, un pizzico minuscolo. Ecco, anche voi mettete. Allora, io prendo la carta. Pizzico, pizzichino, pizzichetto. Allora, qui. Poi. Pizzico, pizzichino di questo? Sì, un pizzico. Minuscolino. Ma lo posso fare anch'io? No, papi. No, no, no. Ok. Poi scrivete sotto sui commenti qual è il loro strumento migliore. Quanto, quanto, quante ne vuoi? Così. Basta. Basta. Ma basta? Va. Prima mescolo io. Poi mescoli tu. E' così veloce dobbiamo mescolare, eh. Vai. Guarda, parla del casino. Poi un po' di acqua? No, ancora no. Ma l'acqua mettiamo qua. Mescola. Eh, sì, è meglio. Mescola. Poi mettiamo i coloranti. Poi mettiamo i coloranti. Sto, sto attenta. Questo è il mio, eh. Ok. Aspetta che ti aiuto, papà. Papà, non va bene se è sporco, eh. È la colla, come non va bene? No. Ma come non va bene? Tanto è sempre bianco qua dentro lì, eh. Sì. Vado. Tutto? Sì. Sicuro, eh? È rosso per me. Facciamolo intanto di un colore, no? No. Tutto, per forza. Ora, papà, mette ce n'è uno più. Mettiamo ce n'è uno più. E poi mi è diventato giallo, così. Guardate come è giallo. Mescoliamo ancora. Aspetta, aspetta, papà. E qui ce n'è un po' qui. Che noia. Qua. Questo, finito. Poi ci mettiamo l'altro. Papà, metticene uno, due. Io mi intanto mescolo meglio. No, quello è il mio, papà. Dà uno a me? Uno a te, uno a te. Papà, ma guarda, prima ne mettiamo uno. Da, dammi il colore. Eccolo. No, dammi, ah no, però io mi faccio. Prendi in uno grande, no? Scusatemi. Papà, prima ne mettiamo uno, poi mescoliamo. Poi, mentre questo mescola l'altro... Io, ragazzi, sto inserendo il verde. Guardate. Mentre facciamo così, papà. Uno mescola, poi l'altro... Poi, quello che sta mescolando, aspetta quello che sta mettendo il colore. Poi l'altro, la avrea, questo qui. Quello intanto mescolo e questo ce lo mette. Lei tocca mettere il collo, eh? No. Se vuoi tu ce le mettiamo ancora. Ce le vuoi mettere ancora? Non so quante le serve. Comunque, io cominciò a fare il mio. No, no, me lo puoi ammettere. Che devo fare? Vai, metticelo questo, vai. E tanto, vede, dopo devi girare. Devi girare. Perché cambia. Anche tu allora fai con quello, eh? Io no. Sì, mi faccio. Ma se mi impari. A fare cosa? Da. Tieni il capo. Da. Mescoliamo, 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 mescoliamo. Ma mi sa che arriverà un bell'arancione. Io voglio fare verde e basta. No. Sì. E no. Tu lo vedi. Fate di tutti e due colori. No, io fai tutti e due colori. Sì. Ma io sono obbligato. Sì. No, invece. Sì, ma io sono obbligato. Papà, ma non c'è il mio col giallo? Allora, guarda che la cosa non lo faccio. Vedi, non c'è niente. Scusami un attimo. Eh no, è nante. Guardate che belli che ci sono. Ora mettiamo questi qui. Anzi, no, questa alla fine. Ora dobbiamo mettere. No, prima l'acqua. Io metto anche il bluino. Sì. Guardate il blu. Sì. Guarda, guarda che fai, guarda. No. Guarda, dopo vedi, scopo, vedi. Mescoliamo. Mi ha fatto messa troppo, troppo acqua ci ha messo. Mi sa, ho ancora un po' di colla. No, non lo vuoi. Oh, vai, fai in casino, eh. Basta, basta. Mamma mia. Ho fatto uno slime proprio, slimissimo. Bapà, mi sa che ho fatto un casino. E quindi? Non c'è problema. Aspetta, ferma, calma. Mettiamoci un po' di più di questo, dai. Fai a girare, dai. Può darsi che... Basta. Vai. Bapà, mi sa che con l'addenzante si risolve tutto. Mettiamo l'addenzante. Ragazzi, dovete inserire... L'addenzante. L'acido borico. O l'addenzante o... La soluzione salina. Quante? Quante prima metterci le? Buono. Lo slime! Ma... Basta! Basta! papà lo slime poi lo prendiamo con le mani dopo scrivete sotto nei commenti quale sarà il migliore ragazzi con l'acido borico esce fuori lo slime papà ora lo prendiamo con le mani mi sento papà ce ne mette un po' di più perché vedo che l'hai messo tanta acqua papà poi ce lo dobbiamo mettere sulle mani prima di prendere papà vogli l'acqua papà 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 prima bisogna mettersi questo va a portare l'acqua in là papà prima papà il mio è tantissimo wow papà super slime mamma papà aspetta papà mettiamene un po' sulle mani non mi si esappiccica più il mio è tantissimo facciamo il confronto papà c'è tantissimo ma ora mettiamo papà ma ora ci dobbiamo asciugare e mettere le ricorazioni papà prendi due tuoi maglioli papà prendi due tuoi maglioli mi è un super slime guardate ragazzi il super slime anche il mio super slime il mio scoppietta papà due uno per me uno per me ok papà vieni papà papà vieni papà vieni allora apriamo e mettiamo polvere di fata polvere di fata ora anche due ragazzi pezzo finale i miei super glitter della sacra scuola delle super fate perché con questo potrei volare su c'è ma che no però però faremo gamici e vedremo i miei slime sai sapete che c'è un bacio del mio slime e nell'acqua l'istacco la vedo molto pericolosa è vero io mi sono sentito un attimo guardate mamma e con questo ragazzi ci vediamo dopo amici miei amici nostri da papà e violante adesso ci tocchiamo i slime questi sono i nostri slime non sono nudi benissimo ma ci siamo quasi riusciti perché vi spiego la colla da utilizzare in realtà non è questa ma è la colla quella trasparente ok ma i prodotti ad esempio come l'acido bonico è questo e ovviamente il bicarbonato di sodio va bene ma è molto importante usare la colla trasparente trasparente detto ciò a seconda dello slime più bello che voi userete noi vi nel prossimo video vi saluteremo e vi e se guardate un vostro slime taggateci con taggateci con noi siamo viola noi siamo violante papà ibiza ciao ciao ma aspetta ci dobbiamo toccare slime dobbiamo scambiarci slime e toccarceli quindi li dobbiamo mettere insieme no scambiarceli tutto ok io te lo do a te tu uno da me grazie uno slime questo è uno slime issimo c'è un pezzo buonissimo del tuo mamma questo è piccolo la colla ciao ragazzi ciao